La missione dell'Oceania è tra le più difficili. Se abbiamo paura di imitare gli apostoli, accusiamoci di debolezza e di poca fede. La missione oceanese è tanto dura che altri non la vollero. Lodiamo il Signore che così servava il campo alle nostre fatiche. Si annunziano pericoli e morti disastrose, tanto meglio. Il sangue dei martiri fu sempre la speranza della Chiesa. Il sangue dei martiri fu sempre la speranza della Chiesa. Il sangue dei martiri fu sempre la speranza della Chiesa. T Grazie a tutti.